Legga il rapporto, l'ho trovata stesa sull'erba. Sì, deve leggere i miei di rapporti. L'invento in continuazione. Ma com'è andata? Visto che è lei... L'ho trovata stesa, svenuta sull'erba. Ah, complimenti, che magnifica pistola. No, non è, è un taser. Comunque, è bello. Che cosa fa? Sparerà sui 600 volt, direi. E' quello che ci vorrebbe per far saltare un cuore a un ritmo di 150. Certo, certo. Ora le dico com'è andata. Resti tra noi due, intesi? L'ho trovata stesa in mezzo all'erba. Bene. Non lo dica a me. Lo dica al mio amico, Ben Franklin. Guardo un mucchio di telefilm. La buona notizia è che la frequenza non c'entrava con il resto. Allora sta morendo. La cura per la meningite non funziona, sta peggiorando. Questo ci porta alla brutta notizia. Le ha sparato col taser. Bastardo, non avrà fatto in tempo a prendere la pistola. La prima volta l'ha presa... Grazie a tutti. Grazie.